Ciao a tutti ragazzi e ragazzi oggi vi faccio vedere il mio terrazzo il mio terrazzo aspettate un attimo che vi sto un attimo mettendo le scarpe e poi ve lo faccio vedere è un terrazzo grandissimo cioè non è poco grande però non è tantissimo grande un pochino andiamo allora non è proprio grande è così questo è un riscale riscale questo è un riscale che ve lo faccio vedere aspettate si chiama chicca allora ragazzi ecco questo è il mio terrazzo ho messo il gazebo la tavola e poi dentro la cosa che è l'artalena che io mi chiedo sempre perché è comoda comunque il fatto che ho messo allora il gazebo con la tavola con le cose ho messo l'ho messo aspettate ieri l'ho messo ieri non mi veniva e niente e niente mettete il pollice di giù e su il su e lasciate un like ebbe la stessa cosa e poi scrivete sotto i miei commenti quando volete quando volete quando volete non scherzo alla mia vita stasera non so però vi potete dire bene stasera mi piace ciao ciao